Social Killer è il primo romanzo che puoi leggere gratuitamente dal tuo cellulare. Se hai un iPhone o un iPod Touch, vai nella sezione Libri dell'Apple Store e scarica l'applicazione gratuita Social Killer. Ogni giorno troverai un nuovo capitolo del romanzo da scaricare e leggere subito. E andando nella sezione Indice, potrai rileggere tutti i capitoli scaricati in precedenza. Avrai inoltre accesso a moltissimi contenuti e potrai collegarti direttamente ai profili Facebook dei personaggi per interagire con loro in ogni momento della giornata. Se invece sei un cliente Vodafone, potrai leggere il romanzo mandando un messaggio con scritto KILLER al numero 488-77-00. Ogni settimana riceverai tre SMS con i link da cui scaricare gratuitamente, salvo i costi della connessione Internet, i capitoli del libro. Potrai inoltre rileggere tutti i capitoli precedenti accedere alla newsletter e alla trama del libro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.